Il sette rosa è tornato. Da Rotterdam a Civitavecchia è sempre grande Italia. Palmiere e compagni a Rotterdam nella prima fase di World Cup hanno staccato subito il biglietto per le finali di Long Beach e hanno fornito segnali incoraggianti in vista dei mondiali di Fukuoka. Anche per noi è stata un po' una sorpresa giocare così, quindi devo dire che abbiamo giocato bene, abbiamo uscito il carattere, ora dobbiamo cercare di mantenerlo sempre. Resta da incorniciare la lezione inflitta alla Spagna, così come bisogna colmare il divario con gli Stati Uniti. Peccato non aver fatto risultato contro gli Stati Uniti, a cui abbiamo aggiunto testa fino alla fine, però l'importante era recuperare tutto il lavoro fatto l'estate scorsa e le ragazze hanno dimostrato che i meccanismi che avevano acquisito l'estate scorsa sono ancora nella loro testa e questo fa ben sperare nella costruzione del mondiale. Ieri l'amichevole a Civitavecchia con il Canada vinte e rimonta 13-12 prima di raggiungere Atene per la seconda fase della World Cup che stabilirà le teste di serie. Con gli Stati Uniti ancora squadra da battere. Il campo dice che stanno ancora un po' avanti, sicuramente rispetto a Budapest che l'abbiamo incontrati a mondiali dove ci hanno battuto nettamente, ci stiamo avvicinando sempre di più. Sicuramente deve essere quello il nostro obiettivo.